TikTok va al contrattacco e denuncia Trump. La società cinese ByteDance, proprietaria del social TikTok, ha deciso di intentare una causa legale contro l'ordine del presidente degli Stati Uniti che da metà settembre le proibirà ogni attività sul territorio americano, obbligando di fatto l'accessione di TikTok ad un'azienda americana, rischiando altrimenti il blocco dell'app. Non sembra una minaccia per la sicurezza nazionale americana, fa sapere ByteDance, ma Trump non vuole nemmeno stare ad ascoltare. In visita a Yuma in Arizona per un briefing sul muro con il Messico, Trump dichiara Ho rimandato i colloqui con la Cina. Sapete perché? Non voglio avere nulla a che fare con loro adesso, con quello che hanno fatto a questo paese e a tutto il mondo. Non voglio parlare con la Cina in questo momento. Quello che la Cina ha fatto al mondo non è nemmeno immaginabile. Avrebbero potuto fermare il virus e non lo hanno fatto. È per questo che ho cancellato i colloqui con la Cina. All'acquisto di TikTok e dell'altra app cinese WeChat hanno mostrato un tiepido interesse Microsoft, Twitter e Oracle. Finalzemì effetti sul hall. Alpha Adio Adio